Esprimono grande soddisfazione il presidente della Regione Puglia, Nicchi Vendola, e l'assessore al bilancio Leonardo Di Gioia dopo la diffusione da parte di Moody's dell'aggiornamento della Credito Opinion della Regione Puglia che conferma il rating BAA2 con l'outlook stabile. Sulla Puglia vediamo una serie di indicatori positivi, soprattutto in sanità, visto che i bilanci del 2012, 2013 e 2014 chiudono in avanzo. Ci dicono anche che nell'immediato ci sarà una implementazione nella gestione e nella organizzazione sanitaria che dovrebbe provocare un ulteriore miglioramento. La nostra metodologia prevede che le regioni non a statuto speciale possano beneficiare di un innalzamento di rating solo con il corrispondente innalzamento del rating statale, ma allo stesso tempo registriamo segnali prospettici positivi sulla gestione economica e ne diamo atto. Con queste parole Francesco Zambon, alto dirigente dell'agenzia di rating Moody's di New York, sottolinea come la Puglia si sia rimessa in rotta. Solo 19 gli enti locali italiani, il cui outlook, ovvero tutto ciò che attiene le previsioni di evoluzione futura dei debiti, migliora da negativo a stabile. La classe della Puglia resta identica a quella italiana, ovvero BAA2. Nella stessa condizione pugliese, ovvero con il rating uguale a quello nazionale, ma con l'outlook migliorato da negativo a stabile, ci sono anche Basilicata, Liguria, Sardegna, Umbria e Veneto, le città di Milano e Venezia, nonché la finanziaria Lombarda-Fin Lombarda. Non passano l'esame Napoli, il cui rating è fissato a B1 e il cui outlook resta negativo e il Molise.